Musica Buonasera e bentrovati a questa puntata di Screenshot, fari puntati sulla riapertura del caso una bomba. Notizia di questa settimana, la procura di Trieste ha deciso di riaprire le indagini su quello che è stato il bombarolo del nord-est che ha seminato il panico tra Veneto e Friuli Venezia Giulia tra metà degli anni 90 e i primi anni 2000. Un attentatore che non è mai stato individuato dalle forze dell'ordine, a lungo si è cercato di darne la caccia, era stato individuato, ricorderete, l'ingegnere Ervo Zornita, ingegnere di Azzano X, che per molti anni è stato accusato di essere il bombarolo. Poi è stato scagionato in via definitiva. Poi parleremo anche di questo, ma come dicevo la riapertura delle indagini data da un'inchiesta giornalistica del giornalista Marco Maesano, dall'istanza anche di due vittime che hanno sollecitato la procura a riaprire le indagini, anche perché ci sarebbero degli elementi che potrebbero essere analizzati alla luce di quelle che sono le nuove tecnologie, in particolare attraverso una banca del DNA, che potrebbe analizzare dei vecchi reperti e confrontarli, cercando insomma di trovare la combinazione e un possibile colpevole per quanto riguarda appunto gli attentati. Di questo parliamo questa sera assieme a Franco Altan, criminalista, scrittore, si è occupato del caso Una Bomber quando era poliziotto in servizio, quindi lo ha seguito da vicino e poi lo ha seguito anche da scrittore con il libro Dietro la maschera di Una Bomber. Buonasera Altan, grazie per essere con noi questa sera. Buonasera a tutti. E allora, come dicevo, lei insomma si è occupato sia nella sua professione quando era poliziotto di dare la caccia al bombarolo, sia poi anche scrivendo alcuni libri su di lui. Insomma, come apprende la notizia della riapertura delle indagini? La prendo bene, nel senso che è una bella cosa, una buona cosa. Ho delle perplessità in ordine alla conservazione di questi reperti. Spiego a tutti che i reperti andrebbero, soprattutto quelli biologici, quindi parliamo di peli, parliamo di capelli, andrebbero repertati in sacchetti di carta oppure andrebbero congelati. Non so se questi reperti siano stati conservati in questo modo, quindi la catena di custione diventa determinante per poter poi provare che quelli sono reperti conservati bene e procedere poi anche ad analisi biologiche e nel caso specifico analisi genetiche. Anche lì, se c'è la presenza di bulbi e bulbi piliferi nei peli, nei capelli trovati o di follicoli, la speranza che ci sia la possibilità di trovare un DNA nucleare è certa o possibile, mentre se invece sono solo tranci, piccoli pezzi, frammenti di capelli e di peli, la possibilità di trovare il nucleare è impossibile e si potrà cercare solamente il mitocondriale, che come molti spettatori sapranno non ha alcuna prova giuridica. Quindi serve solo per rilevare la linea materna di discendenza e dal punto di vista proprio delle informazioni consente un bagaglio di informazioni molto limitato. Non il 99,9% come nel caso del nucleare, ma molto molto meno. Eh sì, termini che abbiamo imparato sentendo anche seguendo il caso di Bossetti e di Yara Gambirasio. Allora, prima di andare avanti, ripercorriamo in questo servizio qual è anche l'idea che si può fare la procura e quali possono essere i possibili scenari che si prestano ad essere seguiti appunto dalla magistratura. Vediamo. La magistratura è pronta a riaprire le indagini sul caso Una Bomberi. Il bombarolo del Nordeste mise in atto una serie di attentati tra metà anni 90 e i primi del 2000 tra Veneto e Friuli. Dopo 16 anni dall'ultimo dei 28 colpi, la procura di Trieste, guindata da Antonio De Nicolo, si prepara a indagare accogliendo un'istanza presentata dal giornalista Marco Maisano e da due donne vittime di Una Bomber partendo dal reperimento di reperti come un capello che attraverso il DNA potrebbero fornire ulteriori indizi alla luce delle nuove tecnologie non disponibili vent'anni fa. La procura di Trieste censirà così tutti i reperti relativi alle indagini sul caso di Una Bomber, operazione diretta a valutare se i reperti siano già stati o non analizzati in passato e se eventuali nuove indagini e accertamenti condotti ora con le più moderne tecniche scientifiche consentano di effettuare giudizi di attribuzione del DNA. Il procuratore capo di Trieste, De Nicolo e il sostituto Federico Frezza, ultimo PN a essersi occupato di Una Bomber, stanno attendendo il fascicolo per valutare la mole di reperti relativi al caso. Ad ogni modo, la procura ha confermato di essere intenzionata a chiedere al GIP la riapertura delle indagini. L'istanza tuttavia non è ancora stata presentata al giudice e lo sarà probabilmente nelle prossime settimane dopo appunto una valutazione preliminare del fascicolo. In quel caso non va escluso che la richiesta di riapertura possa riportare qualche nome da iscrivere nel registro degli indagati. I magistrati infatti starebbero valutando una duplice ipotesi, l'iscrizione a carico di gnoti e in alternativa la contestazione di reato nei confronti di qualcuno. Altan, dunque potremmo avere dei nuovi indagati, ecco, degli indagati. Questo potrà dipendere da quelli che sono gli elementi, anche da questa banca dati insomma del DNA potrebbe esserci un riscontro positivo. Intanto nella banca del DNA che DNA ci sono? Allora, intanto la banca del DNA è attiva, ha avuto inizio nel 2019, quindi siamo nel 2022, adesso dovrebbe essere proprio attiva in maniera fattiva. Parliamo di persone che hanno avuto precedenti penali e sono state tradotte in carcere, quindi persone non semplicemente perquisite, per cui io credo che tutte le persone perquisite all'epoca di una bomber non siano finite in quella banca dati di DNA, proprio per motivi giuridici. Questo è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che avere nuovi indagati significa avere delle prove concrete. Qui, secondo me, sarà difficile arrivare ad avere dei nuovi indagati. Credo che verrà aperto un procedimento contro i gnoti e ritengo che, appunto perché sia gli esperti di ricerca tracce, quindi tracce biologiche in questo caso, e sia i genetisti che si dovranno adoperare per le analisi, dovranno farlo secondo le normative ISO e soprattutto secondo il protocollo ENFSI, quel protocollo europeo tanto famoso che garantì la scarcerazione, se vogliamo dire, di Amanda Knox nel processo contro Meredith Kerker. Quindi parliamo di cose molto delicate. La possibilità che un reperto biologico venga contaminato in corso d'opera è altissima. La possibilità che un reperto biologico venga contaminato in sede di laboratorio è altrettanto altissima. Non lo dico come esperto perché non sono un genetista, però queste cose le studio tutti i giorni e quindi so come funziona. Si dipenderà molto anche dal grado di conservazione, come diceva all'inizio, di questi reperti e capire che risposte ci possono dare. Resta il fatto che questo è uno dei grandi misteri della nostra regione, insomma, Friuli e Veneto. Lei, insomma, come ricorda quegli anni sul campo a dare la caccia al bombarolo quando gli attentati erano dietro l'angolo? Insomma, sono stati 28, lo ricordiamo, sul nostro territorio. Allora, intanto parliamo di un personaggio, il bombarolo è un personaggio atipico. Viene comunque annoverato nella schiera dei serial killer per molti motivi, però essendo un solitario è difficilissimo da catturare. Ricordo a tutti che Teodor Kaczynski, l'unabomber vero, quello americano, per essere catturato ci impiegarono 18 anni e grazie al fratello che lo denunciò, altrimenti sarebbe andato avanti ancora. Quindi parliamo di persone che hanno un consente del teletivo generalmente piuttosto elevato e persone che sono abbastanza schive, che non commettono errori, semmai li commettono all'inizio della loro carriera, ma non già alla fine della loro carriera, quando diventano molto bravi, molto esperti, eccetera. Che idea si è fatta? A un certo punto gli attentati sono finiti e poi vedremo perché è entrato in scena a un certo punto Elvo Zornita, ne parleremo poi nella seconda parte di trasmissione. Questi attentati sono finiti, secondo lei il bombarolo è ancora in vita, ha smesso per qualche motivo, lei ne ha tratto anche un profilo criminologico? Sì, diciamo che il bombarolo potrebbe anche essere morto, espatriato, lo dissi già a suo tempo, potrebbe essere sedato farmacologicamente, potrebbe aver avuto subito dei ricoveri oppure essere ristretto in carcere semplicemente. Quindi ci sono tante le motivazioni, anche perché un bombarolo di questo tipo di solito non si ferma, perché c'è una ragione compulsiva che lo spinge a uccidere, a non uccidere, a mettere i suoi ordini, le sue trappole e quindi non è una persona che si ferma molto facilmente. Ecco, in questo caso erano degli ordini che difficilmente avrebbero potuto uccidere qualcuno, anche se hanno fatto dei feriti, un uovo, un tubo di ferro, insomma, chi ci ha magari rimesso la mano, però insomma, morti non ce ne sono stati. Uno ha rischiato, uno solo, quello del tubo bomba sulla spiaggia di Lignano, quello ha rischiato di morire sul serio. Però, insomma, diciamo che generalmente erano piccoli ordini. Sì, erano delle trappole esplosive, tante volte con l'esca, con le banconote o con altri tipi di esca che servivano ad agganciare le persone, bambini, donne, madri, poi nelle chiese, poi in altri luoghi di festa, eccetera. Per cui, diciamo che ce l'aveva non un po' con tutti, ma in particolare con donne, bambini, donne anziane che rappresentano le madri, quindi c'è tutto un profilo particolare che lo riguarda, insomma. Ecco, durante gli anni delle indagini sicuramente c'erano meno tecnologie di oggi, ma non per questo. A un certo punto vi siete sentiti qualche volta vicini, insomma, dai che lo incastriamo, oppure è sempre stato, insomma, abbastanza schivo, diciamo, da questo punto di vista, difficile da intercettare, insomma, vi ha messo in difficoltà anche da questo punto di vista? Assolutamente sì, perché? Perché le indagini erano, cioè non c'era un unico filone di indagini. Ogni procura portava avanti un filone, all'inizio addirittura ogni ufficio di polizia o carabinieri portava avanti il suo filone di indagine, per cui c'era una frammentazione a livello investigativo. Poi c'è stata un'unificazione con le procure, che è stata una bellissima cosa, diciamo, l'idea di mettere insieme un pool poliziotti e carabiniere per seguire meglio tutte queste operazioni, però di fatto è molto difficile. Devo dire sinceramente che è stato fatto un grande lavoro comunque, sono state messe in campo le migliori risorse che avevamo a quel momento in Italia, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della Polizia di Stato, eccetera, e anche dell'arma dei carabinieri. Quindi credo che oggi sì ci sono delle tecniche magari che possono permettere di fare qualcosa in più, ma non tanto, attenzione, non abbiamo ancora tecnologie che ci permettano di arrivare oltre a quello che è stato fatto. Le uniche cose che sono cambiate a livello genetico è il fatto di poter sapere, conoscere il colore dei capelli, il tipo di etnia, per esempio se è caucasico, di razza, di altro tipo, eccetera, questo sì oggi è possibile, una volta no. Oggi è possibile amplificare la quantità di materiale da analizzare, tipo DNA, allora no. Quindi ci sono state delle evoluzioni, c'è stata un'evoluzione scientifica, ma non già sufficiente per arrivare oltre, a mio modestissimo avviso. Allora, grazie intanto, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare con Franco Altan del caso Una Bombera tra poco. Seconda parte di Screenshot, siamo in compagnia del criminalista e scrittore Franco Altan per parlare della riapertura del caso Una Bomber. Lo dicevo nella prima parte di trasmissione, un bombarolo a cui non è mai stato dato un nome, a un certo punto il principale accusato è stato un ingegnere di Azzano Decimo, Elvo Zornita, che per anni è stato accusato di essere lui l'Una Bomber del Nord-Est. È stato poi scagionato, ma ha sofferto, patito sicuramente tante situazioni che lo hanno provato dal punto di vista personale, familiare. Oggi è un uomo sicuramente libero, ma segnato da questa vicenda. Noi abbiamo sentito anche il suo avvocato Maurizio Pannitz per cercare di capire come stanno le cose e come loro hanno riapreso della riapertura dell'indagine. Sentiamoli. È stato il principale indagato, per anni ha ditato di essere l'Una Bomber del Nord-Est e si è trovato con la vita rovinata. L'ingegnere Elvo Zornita, residente ad Azzano Decimo, legherà per sempre il suo nome a quello del bombarolo mai identificato, anche se nel 2016 ogni accusa sul suo conto è decaduta, dopo che la prova regina che lo doveva incastrare, un lamierino tagliato con le sue forbici, si scoprì essere stato manomesso dal poliziotto Ezio Zernar. Zornita, oggi 65enne, distrutto dalla vicenda, così come la sua famiglia, si è sempre dichiarato innocente. A difenderlo l'avvocato Maurizio Panis, che oggi commenta così i nuovi sviluppi. Sono molto felice. Ho sempre dichiarato che auspicavo che la procura o le procure aprissero nuovamente le indagini per cercare di individuare il o i responsabili. Ciò avrebbe evitato qualsiasi ragione di ulteriore sospetto nei confronti dell'incidenza Zornita. Da quello che ho capito non c'è nulla di nuovo. Ci sono reperti che erano già stati valutati, potranno essere rivalutati benissimo. Dal 2009 c'è una banca dati del DNA. Se i DNA a suo tempo individuati, che avevano escluso l'appartenenza all'incidenza Zornita, dovessero combaciare con qualcuno di coloro che sono noti nella sede nazionale, che è totalmente estraneo, questo possibile sviluppo delle indagini. Zornita, che ha sofferto d'ansia e di attacchi di panico per la vicenda, è ancora in attesa di un risarcimento. C'è una causa in corso. Quello che è stato deciso dal giudice di primo grado, per noi è troppo poco. Per l'avvocatura dello Stato è troppo. Il giudice d'appello deciderà. Questa è la situazione di Elvo Zornita. Naturalmente lo sa bene, per anni si credeva di averlo incastrato. Qualcuno, anche poi come hanno dimostrato le cronache giudiziarie, ha manomesso quella che doveva essere la prova regina. Tant'è che oggi è Zornita, è straneo, rimane straneo la vicenda una bombera. Che riflessione possiamo fare su questo e su come anche la giustizia alle volte va a muoversi, secondo le prove che si hanno, ma che non sempre va a colpire nella direzione giusta. All'epoca ricordo che furono indagate diverse persone. I sospettati erano tanti. Parliamo di 900 persone che erano più o meno state perquisite. Lui finì perché c'era tutta una serie di congetture, tutta una serie di circostanze particolari che purtroppo pesavano su di lui. Quindi era il candidato d'elezione per questi motivi, non per altro. Voglio ricordare che in quel periodo ci furono altri casi, secondo me, l'ho sempre scritto, sempre sostenuto, più umani. Qualcuno era stato anche processato, condannato perché aveva utilizzato materiale esplosivo di quel tipo, poi gli erano esplose le dita, la mano, eccetera. Due ragazzi di Trento morirono facendo esplodere dei tubi bomba. Sì, era un po' la moda del momento per chi voleva compiere degli atti criminali di un certo tipo. Poi ci fu un altro particolare che stupì. Ci fu all'interno della cassetta dell'ipermercato Carrefour di allora, dove la gente metteva le proprie considerazioni su come funzionava il negozio, eccetera. Un biglietto in cui c'era scritto, io so chi è una bomber, colpirà il 16 di novembre. Colpì il 17 novembre. Lì poi non si è capito se quello scritto fosse stato effettivamente di una bomber oppure di una persona. Io lo conosco bene, diceva questo, so chi è una bomber, so che colpirà il 16. Non si è mai risaliti neanche a questa persona del biglietto, naturalmente. Però sicuramente era una persona informata perché aveva un dettaglio. Per quanto riguarda la riapertura di queste indagini, lei si aspetta, ha fatto capire di no, insomma qualche possibile colpo di scena o tutto sommato si proverà perché è giusto tentare, però è difficile credere che possa uscirne qualcosa di concreto. Tutti speriamo che ci sia una svolta. Purtroppo però dobbiamo fare i conti con la realtà. La realtà è quella che dobbiamo considerare la catena di custodia. Se la catena di custodia è stata osservata come da protocolli, allora abbiamo tutte le possibilità di arrivare a qualcosa. E se questi reperti, parlo di capelli e di peli, abbiano il bulbo o il follicolo, allora sì possiamo avere la speranza di avere un DNA nucleare. Fermo restando che sono passati tanti anni, quindi se la custodia, la conservazione di questi reperti biologici non è avvenuta secondo i canoni dettati anche da questo protocollo ENFRI che è invincolante, difficilmente potremo avere delle risposte positive. Ecco, è quello che probabilmente questa prima fase di raccolta di informazioni ulteriori da parte della Procura potrebbe esserci anche questo, rendersi conto che magari i reperti non sono utilizzabili più di tanto bloccherebbe sul nascere, penso alla cosa. Sì, perché qualsiasi avvocato potrebbe intervenire e dire guardate che secondo me così non va bene, insomma. Anche perché va fatto questo lavoro, dobbiamo ricordarlo, in ambito di incidente probatorio, quindi deve essere la Procura ma anche la difesa con i suoi periti a poter operare in tal senso. Eh sì, se ci fosse un indagato naturalmente avrebbe tutto il diritto di difendersi. Anche contro i gnoti. Chiudiamo il capitolo una bomber che abbiamo ancora una cinque minuti, ne apriamo un altro, di un altro mistero irrisolto e veniamo anche a un altro libro che ha scritto lei, lo ricordiamo con lo pseudonimo di Francesco Altan, così si firma nei suoi libri, ed è Rossella Corazzino, una misteriosa scomparsa, parliamo di questa ragazza di San Vito al tagliamento che a quanto pare è finita nelle mani del mostro del Circeo, ecco questa potrebbe essere la sua fine. Anche questo un mistero irrisolto, un delitto irrisolto, però ci sono degli sviluppi anche recenti. Sì, gli sviluppi recenti sono che la Commissione Antimafia ha ritenuto credibile la versione di Angelo Izzo che imputa il rapimento di Rossella Corazzino a Francesco Narducci e i suoi amici, se non ricordo male. Adesso vedremo, questa Commissione ovviamente faceva capo al governo precedente, vedremo con il nuovo governo cosa verrà fatto, vedremo se e a quale magistrato verrà affidato l'incarico di riaprire l'indagine e di verificare tutte queste cose. Ricordo a tutti che il compianto dottor Pavone, procuratore capo di Belluno, aveva ritenuto a suo tempo credibile verosimili le parole di Angelo Izzo, quindi è tutto aperto ancora. Ecco, giusto per ricostruire la vicenda, per quanti non se la ricordassero, insomma raccontiamo chi era Rossella Corazzini. Rossella Corazzini era una diciassettenne di San Vito del Tagliamento che andò in ferie a Tai di Cadore, in un periodo in cui a Tai di Cadore c'erano sette sataniche, sette parareligiose, sette esoteriche, c'era anche l'ordine massonico della Rosa Croce, c'erano gli amici, secondo Angelo Izzo, gli amici suoi che bazzicavano e sempre secondo Angelo Izzo c'era Francesco Narducci, alias implicato nel mostro di Firenze, anche lui con la sua onda rossa che bazzicava quelle zone. Quindi sta ragazzina si è trovata in mezzo a tutte queste volpi e lei, povero pulcino, dobbiamo dire, perché era una ragazza provveduta dal punto di vista della conoscenza della città, del mondo, eccetera, molto sensibile, molto umile, e quindi così andarono probabilmente le cose. Effettivamente le indagini che io ho consultato, fatte a suo tempo, deponevano per questa versione, insomma, lei si è trovata in mezzo a queste cose. Ricordo ancora che venerdì prossimo, alle 18.15 a San Vito del Tagliamento, verrà inaugurata la piazza, nella via dove abitava Rossella, sarà il giardino di Rossella, questa piazza, questo parco, ed è una cosa bella perché in questo modo ricordiamo per sempre questa ragazza che è sparita senza lasciare nulla di sé, non è mai stato trovato il cadavere, non è mai stato trovato nulla, insomma. Eh sì, e ricordiamo anche che, insomma, a venerdì, tra l'altro, ricorre la giornata contro la violenza sulle donne, anche per questo motivo, insomma, verrà dedicata proprio questa piazza in memoria di Rossella Corazzini. Caso da riaprire anche in questo frangente? Come potrebbero essere degli sviluppi? Potrebbe essere riaperto, se prendessero per buone tutte le dichiarazioni di Angelo Izzo, non dico che si arriverebbe a una verità processuale, perché è sempre molto difficile, ma quantomeno una verità storica, insomma. Proprio in conclusione, diciamo che anche comunque le inchieste giornalistiche, insomma, del collega Maesano, i libri come quelli che ha scritto lei, servono anche per ritornare sopra a vecchie vicende, fornendo, no, del materiale nuovo che può essere, lo vediamo anche nel caso di una bomber, utile per la magistratura, cioè è importante anche il lavoro investigativo giornalistico, no, che viene fatto. Assolutamente, assolutamente. Io quest'anno sono stato chiamato quattro volte da quattro redazioni giornalistiche diverse, tra cui la RAI, per fare trasmissioni sia podcast che, nel caso RAI, una trasmissione televisiva, in cui veniva ricostruito il caso. Quindi abbiamo avuto quattro ricostruzioni di questo caso, e secondo me è molto importante tenere i riflettori mediatici aperti, perché danno speranza soprattutto alle vittime, che normalmente vengono poco citate, ma che secondo me debbono avere il podio in queste situazioni, perché sono loro ad aver patito. Eh sì, insomma, anche nel caso di una bomber, proprio c'è anche l'istanza di queste due vittime, di una bomber, ricordiamo le vittime, e nel caso della corazzina anche i familiari, perché insomma sono vite che vengono distrutte. E lei ha ricostruito, insomma, anche con interviste ai familiari? Sì, io ho ricostruito su base giudiziaria, perché di solito lavoro così, parto dagli atti giudiziari e poi anche su atti giornalistici, ma la parte preponderante è quella giudiziaria, insomma, quella degli atti di indagine, che sono quelli più oggettivi dal punto di vista, anche dello studio, da parte mia. Eh sì, incontrovertibili. Siamo proprio in chiusura, c'è un nuovo libro in cantiere? Sì, c'è un nuovo libro in cantiere, sui delitti del mostro di Udine, speriamo che arrivi a conclusione, è un lavoro lungo anche lì, anni, perché ci sono tante vittime, e tanti documenti da analizzare, parlo di atti giudiziari, colgo l'occasione per ringraziare lo studio dell'avvocato Tosel di Udine, proprio perché ci ha fornito questo materiale molto prezioso. Questo è un bel mistero, no? Insomma, su cui andare a scavare. Sì, un gran bel mistero. E insomma, ci sarà magari occasione anche per parlarne, insomma, magari prossimamente anche con lei, intanto vediamo quali saranno gli sviluppi per il caso una bomber. Grazie a Franco Altamber. Grazie a tutti voi e buona serata. E buon lavoro anche per le sue fatiche letterarie, grazie a voi per averci seguito, finisce qui questa puntata di Screenshot. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.